Stiamo qua per essere l'eostacolo a chi ti lavora a casa. E' avanti i bancari! Dove ti viene se tutto è bloccato? Chiedere l'esito rispondere in cortesia. Sto prendendo il dito. Sto prendendo il dito. Ti ho risposto. Sei tu e' rius företare? Questo si troppa, l'esito ne sei bstonato, incitando Manche riga più qualità. di non vediamo Niente metri Metri Ecco No Manche